Andate gli Open di Roma 2011, parliamo di golf. Buone notizie per i nostri italiani da Roma Golf Open 2011 che si è disputato nel percorso dell'Oggiata Golf Club. Andrea Pavan, Federico Colombo e Alessandro Tadini hanno staccato il biglietto per il Grand Final del Challenge Tour e potranno provare a guadagnarsi una delle 20 carte d'ingresso per la massima competizione continentale dell'European Tour. Preziosissimo, settimo posto ex equo per il romano e il milanese che hanno chiuso la competizione con 277 colpi, ben 7 sotto il parra, mentre la ventitresima posizione di Tadini, 283 colpi, meno 1, ha permesso al piemontese di rimanere tra i primi 20 dell'ordine di merito. Nel penultimo appuntamento del Challenge Tour, competizione da dove sono passati anche i fratelli Molinari e Matteo Manassero, lo spettacolo è stato garantito da 4 giorni che hanno visto gareggiare 114 professionisti sulla distanza di 72 buche nel rinnovato percorso capitolino, un field di prima scelta con 45 giocatori dei migliori 50 del ranking e un monte premi pari a 160 mila euro, un successo annunciato che conferma il grande momento del golf nostrano. Sicuramente uno degli appuntamenti che la Federazione Italiana Golf tiene di più, tornare a Roma, Roma capitale, capitale anche in questo caso del golf italiano, avere un circuito di gare professionistiche che si svolge su tutto il territorio nazionale e riconosciuto da tutte le federazioni europee come uno dei progetti più vigorosi di questo momento, ci lascia ben sperare per il futuro. La tappa romana è andata all'inglese Sam Little. Il 36enne londinese ha superato con un par alla quarta buca di spareggio lo svedese Edberg dopo che i due avevano chiuso i quattro giri entrambi con 273 colpi, ben 11 sotto il par. Appuntamento finale dunque in Puglia dal 2 al 5 novembre per i primi 45 del ranking di merito che si contenderanno al Golf Club San Donato di Fasano i 20 accessi per giocare tra i grandi dell'European Tour del 2012. Con queste splendide immagini di golf noi chiudiamo.